Presidente Di Campli, oggi attività paralizzata in Tribunale a Pescara per lo sciopero degli Avvocati. Quali i motivi di questa astensione? Le Camere Penali a livello nazionale hanno indetto tre giorni di astensione dalle udienze penali, quindi solo quelle penali, per protesta contro il disegno di legge che modificherà il termine di prescrizione dei reati. Quindi cosa vuol dire questo in soldoni? Cosa chiedete? Le Camere Penali chiedono essenzialmente che non sia l'imputato a dover scontare a suo danno le lunghezze del processo. Si vuole che il processo sia celere, che abbia tempi certi e che quindi la sua situazione di soggetto sotto giudizio non debba protarsi troppo a lungo. Parlando del Tribunale di Pescara, dove ci troviamo oggi, quanti sono gli Avvocati che si astengono dalle udienze? Ma da quello che si può vedere nelle aule di udienze, l'astensione credo che sia quasi totale da parte degli iscritti all'ordine di Pescara.